I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di noto hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due uomini ritenuti responsabili di un tentato omicidio avvenuto la sera del 29 gennaio, vittima un cittadino bulgaro domiciliato in un'abitazione nelle campagne di Rosolini. Quella sera in un casolare i militari hanno rinvenuto il bulgaro gravamente ferito al collo e al capo da un colpo di fucile sparato quasi a bruciapelo e che solo per un infortunoso caso non ne aveva causato la morte. La vittima, soccorsa dal personale del 118, fu condotta in ospedale di Avale, sottoposta a un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. I carabinieri identificarono il proprietario dell'immobile, testimone oculare del reato, ma le indagini sono state inizialmente intralciate proprio dalla mancata collaborazione sia della vittima sia da parte dell'unico testimone, i quali hanno fornito la stessa poco credibile versione su quanto accaduto, dicendo che mentre si trovavano soli in casa una vettura si è avvicinata all'ingresso e una persona aveva inspiegabilmente sparato un colpo contro la vittima. Troppi erano gli elementi mancanti per ricostruire l'episodio e a cominciare dai due bossoli che non sono stati rinvenuti nel luogo indicato da vittima e testimone, l'esame di altre possibili persone informate sui fatti e l'attività tecnica disposta dal PM Salvatore Grillo hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in capo ai presunti responsabili del tentato omicidio. È stato anche recuperato il fucile calibro 12 a canne mozze. Secondo la ricostruzione degli uomini del NORM e della compagnia di noto, quella sera vittime e testimone non erano da soli in casa, come raccontato dagli stessi, ma erano presenti anche i due indagati, Fethi Nahir, tunisino sprovvisto di permesso di soggiorno a 37 anni, e il rosolinese Natale Savarino, agricoltore di 28 anni. Il tunisino aveva avuto un litigio con la vittima e per vendicarsi, aveva aizzato contro di lui il Savarino, al quale, conoscendolo come persona rissosa e violenta, aveva raccontato falsamente che il bulgaro aveva intenzione di rovinargli il raccolto. Savarino, imbracciato un fucile a canne mozza che deteneva illegalmente, era quindi andato a cercare il bulgaro, al quale ha teso un agguato nel cortile dell'abitazione, sparandogli mentre usciva di casa. I carabinieri hanno avuto modo così di registrare ulteriori minacce mosse dalla vittima per telefono dal tunisino, deciso a finire il lavoro, senza questa volta sbagliare bersaglio. Proprio questo dettaglio, che lasciava intendere un imminente tentativo di reiterazione del reato, ha indotto il PM a emettere un decreto urgente di fermo di indiziato di delitto nei confronti di entrambi i responsabili del delitto. Il tunisino, che dopo il delitto temendo di essere rintracciato, si è allontanato dal comune siracusano e si era rifugiato nelle campagne di Bronte, è stato raggiunto a mattinata del 15 febbraio e così catturato mentre accudiva alcuni bovini. Savarino invece è stato arrestato a Rosolini. I carabinieri hanno poi rivenuto in un terreno nei pressi del muro in recensione della proprietà di Savarino il fucile usato per ferire la vittima.